Io innanzitutto faccio gli auguri al Presidente del Consiglio, al Governo per il difficile compito, da Sindaco mi auguro che questo Governo segua il monito anche del Presidente della Repubblica quando viene a Napoli che senza il mezzogiorno non si ha unità di Italia, non si ha sviluppo, il Governo Berlusconi per Napoli non solo non ha fatto nulla, addirittura ha peggiorato la situazione tagliando trasferimenti, quindi veramente mi auguro che da questo punto di vista io giudicherò questo Governo dai fatti e dai provvedimenti, che ovviamente è un Governo nel quale politicamente non mi riconosco, né per come è nato né per come viene sostenuto e quindi da Sindaco darò anche, da persona che fa politica ormai da un po' di tempo, darò tutto il mio contributo perché da subito nel Paese si costruisca un'alternativa politica seria, sia politica, sociale ed economica, quindi questo è quello che dobbiamo fare.